Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video in cui parlo di nuovo delle ragazze. Allora, a qualcuno sicuramente non avrà piaciuto l'argomento che ho fatto, ma io dico solo ai single, quelli che sono ancora senza ragazze. Ma voi che avete la ragazza non sapete cosa vi aspettate. Il vero amore non è quello, il vero amore. Non esiste il vero amore, l'amore non esiste, non esiste. Tutti i giorni discussioni lette con queste cose qui, cioè rapporti che durano un mese, cinque mesi, un anno, così che durano pochissimo, che non durano niente, non durerà mai niente una relazione. Ma ci facciamo, ma ci fate caso? Se voi, non so, se voi conoscete qualcuno che ha una ragazza e l'ha lasciato dopo cinque mesi, un anno, qualcosa del genere, cioè. Tranne l'interessamento, quello del conto in banca, di quanto sei bello, di quanto sei stronzo, di quanto fai il bello, il figo, il cattivo, quello che è, eh. Cioè, le ragazze vi stanno manipolando. Le femmine ci stanno manipolando. È una manipolazione questa. Ti stanno manipolando il cervello. Ci sono resi così scemi a fidanzarsi con le ragazze. E non sarebbe manco giusto, perché se noi ci... Non... Il nostro cervello non è più come era prima, single. Eravamo molto più intelligenti. Adesso sono arrivato... Adesso ci sono queste ragazze che si fidanzano. E' uno scemo a chi interessa la ragazza che dopo degli anni ti lascia e ti ruba i soldi del conto in banca. La ragazza interessava solo quello. Cioè, fateci caso. E io sono proprio qui per impedire che la nostra... Quella nostra... La nostra società si rovini così. Si sta rovinando. Si sta rovinando. Si sta rovinando. Cioè, si sta rovinando. La nostra società ci sta rovinando. Perché non si può non... Cioè, tutti i giorni... C'è una nuova con... Fidanzati sempre in continuo. A me... Perfino quelle immagini... Di ragazze sul libro, sul giornale, questo del genere... Cancello già il volto della ragazza, perché io le odio le ragazze. Io non ne voglio più sapere. Dopo che sono stato degli anni... A essere umiliato... Preso per il culo, così. Ma no. Anche voi farete la stessa fine che ho fatto io. Voi non vi ne rendete conto. Voi dite... Ma cosa dice questo? Ma... Prima o poi vi ne rendete conto. Quindi... Adesso vi dico anche un'altra cosa... Che non sto minacciando nessuno. Non sto minacciando nessuno. Però... Solo le ragazze, perché loro... Proprio... Non le posso vedere. Io ho già un piano. Il piano numero uno. Che sarebbe... Ma si realizza fra qualche anno. Fra dieci anni, quindici. Quindici n'è di tempo, sì. Ma prima o poi... Non esisteranno mai più le ragazze. Si estingueranno. Perché io lo so. Io prevedo il futuro. Io lo so che si estingueranno le femmine. Non ci saranno più. Saranno tutte uccise... Da un esercito molto cattivo. Ma non vi dico quale. Dato che l'informatica... La programmazione dei robot... Dei robot... Dei androidi... No? Che nel futuro fanno vedere molti robot... Programmabili tutti... Così. Si può fare anche un esercito di loro. Di robot. Sì. Armatura tipo Iron Man. Qualcosa del genere. Dunque l'esercito lì... Il capo... E l'esercito... Domineranno il mondo. Ma dominerà soprattutto il capo. Dominerà il mondo. Perché... Perché... È veramente una cosa ostinata. E' una cosa ostinata che proprio è... Porta la guerra. Porta il conflitto di tutto il mondo. All'apocalisse. Porterebbe. Ma... Quale esercito? Quale esercito? Direte? E... Si dirà... Bye bye... Alle vostre cari mogli... Alle vostre fidanzate... Alle femmine... Alla specie femminile... Che non ci sarà più. E'... E' la scema che dice... Che... Quella sua ipotesi del cacchio. Che non è mica una scienziata. Che se... Che si è... Che se la specie femminile... Non ci sarebbe più... Spariscono anche... I maschi. Ma a me questa... Bah... Me la vuole dare a bere... Ma... Ma a me non me la dà a bere. A se stessa la dà a bere. Perché io non sono così... Ignorante da capire che... Che senza maschio... Si, è vero. Senza femmina... Non ci potremmo riprodurre. Ma grazie alla scienza... Creare... Bambini artificiali... Non è un problema. Se qualcuno vuole avere un bambino... L'ho prenoti... Da chissà dove... Perché ancora non è... Ancora di questa cosa... Non ne ha parlato... Pochissimi. Quindi non si sa... Quasi niente di sta cosa. Quindi... Tra il futuro. Si parla del futuro. Questo è il futuro. Eh. Eh. Quindi... Sicuramente... Eh. Ehm... Non ci saranno più. Ci saranno i bambini artificiali. Se qualcuno vuole avere un figlio. Artificiale. Eh. Costruito... Con la scienza. Con la potenza della scienza. Eh. Ecco qualcosa ci. Ma... Ma... Ehm... A questo punto... Arrivo a... A un traguardo. Cosa vuol dire? Un traguardo. Quindi... Fammi... Fatemi pensare un attimo. Eh. Volevo dire... Che... Allora... Soprattutto al fidanzamento... Alla zona friendzone. Quelle cose lì. Che anch'io... Dopo che mi hanno frenzionato... Umiliato... Preso per in giro... Eh... Così... Eh... Tutte quelle cose... Di merda... Eh... Sì. Anch'io... Sono passato... Dalla friendzone. La friendzone, no? Sapete... La zona... Della... Della amicizia... Quella cosa lì... La zona... Che mi sta proprio antipatica... Con la zona. Perché dovrebbe esistere? Perché dovrebbe esistere le femmine? Eh... La friendzone... E' una cosa molto volgare. E' una cosa volgare. Che non esiste con questa friendzone... 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 Friendzone fra noi maschi. Friendzone fra noi maschi. Ma non friendzone fra misti. Fra maschi e femmini misti. Ma no. Le femmine vi portano in guai. Vi portano in guai seri. In guai. E in seri. Ecco. Le femmine ci portano tutte... Tutti... Tutte le line... Nella merda ci porta. C'è... C'è chi sputana di femmine. C'è chi sputana che ti rovina... Un fidanzamento. Ma questo a me non mi afferra niente. Ella ha già rovinato. Quella sputanatrice della femmina di merda. C'è chi sputana di femmina. Le femmine... Dobbiamo lasciarle perdere. Io poi dovrò sapere chi sta con me. No? Veramente. Chi è ancora single? Fra qualcuno? Fra molti che mi seguono? Che guarderanno questi video? Questi video qui? Eh? C'è? Vedi... Dovete rendere conto. Sì. A voi è bello, no? È bello. Lo so. Lo so che è bello. È la prima volta che ho una fidanzata. Che bello. Che bello. Ci stiamo tutta la vita. Sì, è bello. Lo so. Lo so che è bello. Però ha anche i suoi lati negativi. La ragazza è negativa. Perché prima o poi vi lascerà, vi spezzerà il cuore. Vi abbandonerà lì come... Come una formica schiacciata che sta morendo. Cioè... Eh? Dovete pensare anche a questa cosa. Dovete pensarci. Eh? Quindi... 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 Dobbiamo pensare a questa cosa. Ma dovete? Io ho già pensato. Io me ne sono già pentito di averci provato. Io odio San Valentino. Odio l'amore. L'amore poi non esiste manco l'amore. Non esiste. Ve lo dico. Vi amano così tanto per farvi... Per farvi contenti. Poi vi fanno mandare anche nella Frienzio. Eh? Cioè... Non vi amano. Non vi amano veramente. Non vi amano veramente. A loro conta il coso lì. Il conto, sai? I soldi. I big money. A loro contano quelli. Quanti big money hai a disposizione per spendere il shopping? Ecco. A loro interessa quello. Lo shopping. I soldi da spendere che fanno spendere per lo shopping. È per... Sì. È per fatti andare cento volte al ristorante a farti pagare il conto. Chissà quanti soldi da spendere. Che poi uno si renderà conto quando andrete a mangiare fuori, quando vi va a spendere, dovete spendere un sacco di quattrini. Cioè... Ma... È impossibile. È impossibile. Beh. Eh. È una cosa da pazzi. È da pazzi. È una cosa da pazzi. Va bene ragazzi. Quindi. Con questi discorsi io avrei finito. Quindi. Ehm. Quindi. Pensateci bene. Pensateci bene. Non togliete subito il video ai primi minuti che avete visto del video. Andate già a giocare a Fortnite. No. Pensateci bene. Avete... Avete quanto volete. Poi mi direte... Mi rispondete voi sul commento. Che ne pensate. Se è giusto o no. Tanto riguarda dei ragazzi. Informazioni. Friendzone. Chiedetemi ogni cosa che io so. Che io vi posso rispondere. Chiedetemi ogni cosa. E io vi posso rispondere. Voi pensateci. E ci vediamo. Con il prossimo video. Con il test. Di questa storia qui. Salve Valentino. Con il cacchio lì. Salve Valentino. Che non esiste mai con l'amore. Quindi ragazzi. Ciao ragazzi. Commentate e iscrivetevi. Lasciate un mi piace. Ciao ragazzi. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.